Non credo sia fondamentale arrivare settimi, è importante, sarebbe importante, importantissimo arrivare settimi perché avremmo la possibilità anche col pareggio di passare il turno, però non è fondamentale e non è così scontato perché non dipende solo da noi. Quindi rimango dalla mia idea che dovremmo fare di tutto per vincere, sperare, sperare di arrivare settimi anche perché sarebbe, a prescindere da tutto, un grande risultato e poi affrontare i pre-off. Però se poi non arriviamo settimi, che succede? Non credo che nel nostro modo deve cambiare qualcosa, dobbiamo avere coraggio nell'affrontare i pre-off, non dobbiamo partire come outsider o l'importante è passare un turno anche se arriviamo ottavi, no, no, non cambia niente. La mentalità deve essere quella feroce di una squadra che vuole far bene. Sono convinto anch'io che la Viterbese verrà qua per vincere, ne sono convinto perché comunque il mister è stato qua a Teramo e so che ha grande voglia e credo che la trasmetterà alla propria squadra, quindi credo che loro verranno qua molto motivati anche se non hanno più niente da chiedere al torneo. Ci aspetta una gara difficile. La Viterbese è una buonissima squadra. Io credo che la Viterbese abbia espresso molto meno del reale potenziale della squadra che ha a disposizione perché davanti Tassi, Tunkará, Murillo, sono giocatori veramente eccezionali, anche a centrocampo, in difesa, hanno giocatori importanti, con una buona società e quindi secondo me hanno fatto un po' meno di quello che erano le aspettative, che è il potenziale della squadra. E quindi nella partita singola sarà una partita difficile. Loro è una squadra che pressa molto alto, provano ad avere un palleggio nella metà campo avversaria e quindi sarà una partita congeniale, ha le nostre caratteristiche. Speriamo di riuscire a dare il massimo, speriamo di riuscire a dare il meglio per fare una buona partita perché per noi è importantissima questa partita. Vediamo quello che succede.